Carissimi amici, ascoltatori e telespettatori, siamo con un vecchio amico, non perché è vecchio, ma perché è di una data lontana, il signor Drago! Ciao cara, come stai? Tutto bene, e te? Benissimo, dai, bene. Mi pensavo non ti ricordassi di me quando ci siamo incontrati. Ragazzi, è impossibile dimenticarsi di lei. Quando si incontra Emanuela non si può dimenticare, perché rimane impressa per tutta la vita, anche perché è stata una delle prime che ha fatto i primi eventi a Roma, dando spazio soprattutto agli indipendenti e ai giovani. È vero, è vero. E oggi ci ritroviamo qui in un set importante dove tu, diciamo, sei stato ricordato come uno dei primi conduttori. Uno dei più vecchi, poi, soprattutto. Ho presentato, credo, una decina di edizioni di Roma Videoclip. Con Francesca, ovviamente, la crescita è stata immensa, perché con lei poi man mano le varie edizioni è cresciuto sempre di più e anche a livello professionale è stato utilissimo. Io ti faccio i miei complimenti e soprattutto in bocca al lupo per tutto. Grazie e continuate a seguirmi su www.radiogodot.it Ciao. Grazie caro. Ciao.